Musica Riprendiamo il corso delle nostre interviste, dopo gli interventi dei relatori siamo in compagnia del dottor Raffaele Migliorini che è dirigente medico-legale per quanto riguarda il coordinamento generale medico-legale dell'Inps. Allora, rispetto alla tematica centrale di oggi, l'invalidità civile, dal suo punto di vista siamo preparati? Che grado di preparazione abbiamo e soprattutto come si può guardare avanti rispetto allo stato attuale? Ma diciamo che il problema è stato affrontato dall'Istituto in maniera molto attenta e questo sforzo si è concretizzato poi in una completa telematizzazione del processo. Questo ha portato sicuramente, oltre a una maggiore rapidità, a una grande trasparenza in un processo che precedentemente era gestito solamente in maniera cartacea, in maniera molto burocraticamente cartacea e questo chiaramente creava, poteva creare non solo disservizi per quanto riguarda ripeto la celerità dell'intero ITER ma anche oggettivamente ripeto di alcuni passaggi che invece adesso sono chiaramente scanditi secondo procedure digitali. Uno dei passaggi centrali è quello della definizione dell'invalidità civile. Quanto le parole o comunque le definizioni rendono effettivamente giustizia? Vedi, uno degli aspetti fondamentali è che la protezione medico-legale in realtà decorre in maniera parallela con quello che è la conoscenza clinica della patologia. Non si può prescindere uno dall'altra oggettivamente. Quindi un'analisi rigorosa e corretta di quello che è la documentazione sanitaria e quindi parimenti una appropriata valutazione medico-legale sicuramente decorrono insieme. Non si possono scendere come due elementi di tipo valutativo. Due cose in chiusura di questo intervento e sono le seguenti. gliele pongo tutte e due così poi lei mi risponde affrontandole come crede. Se ci sono differenze di trattamento tra minori e adulti e l'altro elemento, in che modo le famiglie dell'invalido civile sono coinvolte? Ma diciamo che uno degli aspetti fondamentali rispondo proprio per quello che riguarda la valutazione del minore. Sicuramente perché vi è stata una valutazione molto ancorata a quelli che erano i vecchi aspetti della legislazione dell'invalido civile, quindi ha una cosiddetta capacità lavorativa. Mi viene un po' da sorridere quando si pensa che un bambino si possa valutare con quel tipo di metro. Poi una cosiddetta capacità lavorativa generica era quella del manovale e ancora questo in fondo ci fa sorridere ancora di più. chiaramente poi gli sforzi progressivamente il legislatore ha portato sì e anche le nostre linee guida devo dire proprio sul minore in maniera di inquadrare il minore in un altro ambito, il cosiddetto ambito relazionale partecipativo che è uno degli aspetti dei tratti fondamentali dell'età, evidentemente della fanciullezza, della pediatrica insomma in genere. Chiudiamo con una breve nota, esiste un comportamento comune a livello nazionale per tutte le regioni d'Italia o ci sono delle differenze? No, chiaramente dalle Alpi dei Piramidi vi possono essere delle disomogeneità e in fondo l'Istituto, l'Inps, che è un istituto nazionale, ha teso proprio questo, cioè le ripeto, proprio le linee guida ad omogenizzare non solo chiaramente quindi l'appropriatezza, cioè come correttamente deve essere valutata, ma anche l'omogenizzazione del giudizio in maniera che il soggetto che viene visitato a Trapani sia valutato così come il soggetto che è visitato a Treviso insomma. Grazie.